Cominciamo anche da questa parte dello studio, diamo il buongiorno a padre Mario Piatti che è tornato a trovarci nei servi del cuore immaculato di Maria. Ciao padre Mario. Grazie, grazie, buona giornata. Padre Mario, i più attenti questa mattina quando abbiamo cominciato alle 7.30 con grazie avranno notato che sul nostro tavolo c'è una statua di una madonnina e i più attenti ancora che magari ci hanno seguito e hanno seguito le ultime volte che eri con noi forse ricorderanno la storia che è opportuno però ricordare perché è una madonnina che riguarda proprio la storia di padre Mario piccolo. Piccolino, andiamo alla preistoria addirittura, siamo nel 64 per cui dicevo già una volta qui in studio che ho fatto pochi giorni di asilo perché a casa mia eravamo già tre, poi è arrivato il quarto figlio proprio nel 64, in gennaio e allora c'era già un po' di barraonda in casa però sono andato all'asilo, ho pochi giorni e mi ricordo che forse il primo giorno stesso una suora che stava pulendo, inavvertitamente ha fatto cascare questa statua per terra è andata in mille pezzi e la stava mettendo in un sacchetto forse era anche spaventata perché c'era la superiore in giro e l'ho detto, non so perché ho avuto questa ispirazione ma no, posso portarla a casa io? l'ho portata a casa e dopo l'ho risistemata, l'ho incollata e poi qualche tempo dopo l'ho anche ridipinta ecco, è qua la cosa un po' particolare è che è la Madonna di Lourdes poi invece nel corso della mia vita sono stato sempre più legato a Fatima a Lourdes non sono ancora andato, devo dire la verità rimane lì come memento per te questo? è rimasta tutta un po' la... ha seguito sempre un po' chissà cosa ne aveva visto di tutti i colori però con quella pazienza che solo la Madonna può avere è rimasta lì io penso che ognuno di noi ha dei segni qualcosa che richiami questa materna presenza di Maria nella sua vita per me è stato questo segno che mi ha sempre accompagnato adesso l'ho portato qua poverina, lei sarebbe rimasta comodamente a casa là nell'angolino infatti è una Madonna pellegrina anche per noi perché viene direttamente da Varese e tu ce l'hai portata proprio a testimonianza di quanto ci avevi raccontato è a testimonianza del fatto che poi nelle vite di tutti accadono cose che magari non sappiamo neanche leggere con gli occhi del presente è vero, è inspiegabile perché è stata questa ispirazione di dire ma la porto a casa io? la sua me l'ha data subito e via se cosa avrà detto alla superiore non so cosa ve l'ha raccontato e allora noi quest'oggi ci farà compagnia in studio sarà qui con noi insieme a Padre Mario che sarà un'ottima guida dopo la pubblicità per andare in un luogo in cui questi giorni sono giorni di festa andremo a Treviglio in provincia di Bergamo per la festa della Madonna delle Lacrime andiamo in pubblicità e ci ritroviamo qui fra poco del 1522 a Treviglio in provincia di Bergamo la Madonna lacrimò e quelle lacrime salvarono l'invasione proprio di Treviglio salvarono, bloccarono l'esercito francese e salvarono così la città Padre Mario, in tante occasioni abbiamo visto la Madonna piangere ma quelle lacrime, cosa ci vogliono dire? nel Vangelo si parla di Gesù che piange a me in due occasioni piange per la morte di Lazzaro che poi sarebbe risuscitato piange di fronte a Gerusalemme la città santa io credo che le lacrime di Maria Santissima siano come associate a queste lacrime di Gesù nel senso che la Madonna piange di fronte alle nostre povertà tanti dolori che attraversiamo beh in quel caso c'era una città che è stata per essere distrutta a rasa solo le truppe francesi che era Francesco I in lotta con Carlo V per cui la situazione sembrava disperata come sempre il popolo di Dio avverte questa presenza materna si rivolge alla Madonna dice non c'è altro riparo altro rifugio aiutaci tu e spiegabilmente queste lacrime poi sgorgano da questa immagine e il generale francese che stava per distruggire la città devoto della Madonna perché anche tra i militari ci sono persone devote di Maria Santissima depone la spada e l'elmo che sono ancora da quello che so presenti anche questo mi è piaciuto questo particolare nel senso che le armi come sono deposte ai piedi dico lei che invece è venuta a parlarci di guerra a parlarci di pace, di amore di riconciliazione, di conversione quindi c'è questa partecipazione di Maria Santissima al nostro dolore dall'altro lato c'è anche la preoccupazione di Maria Santissima la Madonna è una madre che è preoccupata del bene dei suoi figli e sono come due versanti il bene della nostra vita quello terreno e quello eterno la Madonna è preoccupata quando qua giù le cose vanno male un po' preoccupata se il nostro cammino non ci conduce piano piano verso quella pienezza di bene che è l'abbraccio di Dio eterno che è il cielo, che è il paradiso e allora ecco che piange quando vede che c'è una deriva di fede io penso che purtroppo tanti motivi li ha anche oggi la Madonna di essere preoccupata per il destino dei suoi figli e quindi ecco queste lacrime sono il segno di una vicinanza a noi, al nostro presente, al nostro oggi come allora la preoccupazione di una città che stava per essere distrutta e poi anche la preoccupazione per il cammino e la meta del nostro cammino che è l'eternità, che è l'incontro con il Signore e la Madonna piange per questo ecco e come diceva Giovanni Paolo II se piange bisogna consolarla dobbiamo consolarla e quindi il nostro compito credo che sia proprio quello di consolare queste lacrime, questo cuore di Maria che soffre con noi, per noi come la migliore delle madri penso che sia un po' questo il motivo e poi nel corso della storia è successo in diverse occasioni in Italia abbiamo la Madonna di Siracusa la lacrimazione del 1953 il santuario che è sorto in seguito a questa lacrimazione con l'avvallo poi ufficiale della Chiesa dell'episcopato siciliano che disse che decretò la delicità di questi fatti Ritorniamo invece ai fatti di Treviglio andiamo proprio a Treviglio a rivivere quel miracolo avvenuto il 28 febbraio del 1522 con questo servizio siamo nel 1522 la Lombardia in quegli anni è terreno di scontro tra due giganti l'esercito francese da una parte e quello imperiare dall'altra e Treviglio aveva fatto a giudizio dei francesi una scelta sbagliata e quindi il generale Lutrec comandante dell'esercito francese del tempo decide la distruzione della nostra città tutti avrebbero dovuto imparare vedendo Treviglio ormai distrutta il 27 febbraio del 1522 ormai l'esercito francese era accampato alle porte della città e quando il 28 mattina di quell'anno il generale diede l'ordine dell'attacco alle 8 di quel mattino la Madonna incominciò a piangere un atto notarile che riporta l'evento dice che Maria pianse per sei ore continuate di fronte a tutti di fronte anche al generale agli ufficiali dell'esercito francese che proprio da quelle lacrime decisero di perdonare la città di Treviglio e deposero particolarmente il generale Lutarec l'elmo e la spada come segno di conversione di perdono elmo e spada del generale che sono ancora oggi conservati in questo nostro santuario con il passare del tempo questa devozione alla Madonna delle lacrime non è affatto diminuita anzi per certi versi il miracolo quel miracolo quelle lacrime sono ancora molto attuali ce ne accorgiamo bene in questo tempo dove le immagini della violenza e della guerra sono immagini quotidiane tra poco ritorniamo a Treviglio però prima Padre Mario ci stavi dicendo poco fa della consolazione è vero Maria piange per noi però in qualche modo anche noi siamo toccati da quelle lacrime non siamo insensibili a questo ma in che modo possiamo e dobbiamo consolarla? forse rifacendoci proprio a quello che è accaduto lì a Treviglio potremmo dire che armi dobbiamo deporre noi le armi del nostro egoismo del nostro orgoglio l'impurità la cattiveria che alberga nel nostro cuore io credo che il modo più bello per consolare la Madonna sia proprio questo chiederglielo anche cosa vuoi chiedere ponga i tuoi piedi Maria Santini poi ognuno di noi lo sa lo Spirito Santo ci illumina e abbiamo tutti qualcosa di come dire di negativo di torbido che dobbiamo tirar via dal cuore per i cristiani per i cattolici in particolare c'è la confessione è uno strumento di grazia proprio per toglier via da noi quello che fa soffrire anche il cuore di Maria Santissima che è il nostro peccato e quindi credo che sia proprio questo poi essendo devoto a Fati in modo speciale insomma con il nostro istituto la famiglia del cuore immacolato impariamo anche da quei bambini di Fati ma cosa vuol dire consolare Dio consolare il cuore di Maria impegnarsi in una vita veramente di fede e offrire anche la propria vita i propri sacrifici non solo per se stessi ma anche per gli altri come ha fatto in particolare Giacinta che aveva a cuore la salvezza di tutte le anime e si è donata fino alla morte fino a quella eroica morte che ha fatto a Lisbona proprio il 20 febbraio del 1920 quindi credo che siano queste un po' chiediamoci cosa devo deporre in questa quaresima in questo periodo ai piedi della Madonna perché sia consolata perché anche la mia vita possa essere un segno di questo di questo amore nei confronti di questa madre che tenerissimamente come vediamo in tante occasioni dimostra che c'è accanto che c'è vicina ne inventa sempre una nuova per dirci quanto ci ama ecco quindi penso che sia un po' questo il richiamo che ci viene quindi una consolazione fattiva vera concreta che passa attraverso anche dei gesti concreti soprattutto durante questo periodo di quaresma anche di perdono nei confronti degli altri tutti abbiamo un po' di rancori che covano sempre in noi forse è l'occasione buona per deporre anche questi ai piedi della Madonna come quell'elmo sarà costato anche quel generale perché insomma aveva voglia di distruggere tutto invece ecco è subentrata una un'indicazione diversa dal cielo Padre Mario vogliamo tornare proprio a Treviglio dove ci aspetta Don Norberto Donghi che è il parroco della comunità pastorale della Madonna delle Lacrime buongiorno 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 a voi buongiorno intanto Don Norberto io ricordo che sono stata da voi proprio per i 500 anni della lacrimazione quindi due anni fa lo ricordo benissimo un anno davvero straordinario esatto mi ricordo tantissimi fedeli che erano presenti quel giorno ma ci puoi raccontare esattamente dove si trova in questo momento cosa vediamo sono a pochi metri dall'immagine della Madonna in una locale annesso al santuario che noi chiamiamo Salamo signor Rainoni e alle mie spalle vi è un velo un telo ricamato molto prezioso che è il velo che anticamente serviva proprio la sera della vigilia della festa di Treviglio per coprire la Madonna velare l'immagine della Madonna che è quello che avverrà questa sera perché ricordiamo che quest'anno è un anno bisestile e negli anni bisestili la festa non ricorre il 28 ma viene spostata al 29 febbraio è corretto? Sì è proprio così perché proprio quell'anno dopo il miracolo accaduto il 22 di febbraio il comune stesso di Treviglio decise che sarebbe stata festa per tutta la città e nell'atto con il quale firmava e decretava questa festa scrisse l'ultimo giorno del mese di febbraio e quindi successivamente quando venne inventato l'anno bisestile si decise che sarebbe stato quindi ogni 4 anni il 29 di febbraio e non il 28 Noi poco fa attraverso un servizio che ci ha portato a Treviglio in cui abbiamo sentito proprio la tua voce abbiamo capito l'origine e la storia di questo episodio quello che ti vogliamo chiedere adesso è il momento come si sta vivendo sappiamo che ogni anno c'è anche una preparazione al momento di festa quest'anno come è andata come sono stati questi ultimi giorni a Treviglio una preparazione molto bella e davvero intensa nove giorni prima per una lunga e bella novena noi ci prepariamo alla nostra festa di Treviglio abbiamo proprio terminato ieri sera la novena di quest'anno una tradizione vecchia almeno di un secolo vuole che sia sempre un vescovo a predicare questa novena e quest'anno è venuto l'ausiliare di Milano Monsignor Giuseppe Veggezzi e per nove giorni fedeli dalle sei del mattino con la prima celebrazione dell'Eucarestia fino alla sera alle 20 e 30 con il rito della compieta e l'ultima predicazione affollano il nostro santuario per preghiera personale eventi comunitari e gli ultimi due giorni quelli che appunto vivremo oggi e poi domani sono i più belli i più intensi i più significativi questa sera durante una messa particolarmente suggestiva che viene chiamata la Vespertina al termine della celebrazione dell'Eucarestia dopo la comunione l'orazione post comunione l'immagine della Madonna verrà velata mentre si cantano le litanie e una salve regina composta da un sacerdote di Treviglio nella musica che è davvero molto 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 evocativa è un momento davvero straordinario il giorno dopo alle 8 del mattino quest'anno sarà il 29 l'immagine di Maria alla presenza dell'arcivescovo perché anche questa è una costante della nostra comunità e del nostro santuario l'arcivescovo di Milano noi siamo in provincia di Bergamo ma apparteniamo orgogliosamente alla diocesi di Milano il nostro arcivescovo viene per il momento del miracolo così lo chiamiamo noi la svelazione dell'immagine della Madonna che è quello che stiamo vedendo in questo momento nelle immagini degli anni precedenti grazie e noi ti ringraziamo tantissimo buona festa della Madonna delle lacrime a Treviglio a tutti gli abitanti di Treviglio grazie per essere stato con noi questa mattina grazie Don Norberto Donghi grazie grazie a tutti voi grazie a presto padre Mario un momento bellissimo quello del velamento e dello svelamento due momenti molto importanti cosa rappresentano? in parte ce l'ha detto padre Don Norberto sì sì c'è stato accennato indubbiamente il svelamento è come penso che sia come un segno di quei dubbi che a volte prendono il nostro cuore di quei momenti a volte di angolo oscia di fatica però sappiamo che dietro questa fatica ecco svelandola togliendo via fidandoci ancora una volta del Signore di Maria Santissima c'è una persona che ci ama l'immagine è il segno di una presenza della presenza viva di Maria Santissima accanto a noi per cui ecco mi dà un po' l'idea di queste problematiche che abbiamo dentro a volte in momenti ci conforta che anche tanti santi una volta abbiamo letto la vita di Santa Teresa di Calcutta insomma per diversi anni è vissuta come in una in un'aridità come in un velamento del cuore ma si è fidata sempre sapete che dietro quel velamento c'era c'era l'immagine vera del Signore di Maria Santissima per cui ecco mi dà un po' questa idea di questa fatica che tutti condividiamo però è una fatica che ci deve aprire alla fiducia ancora di più nel Signore e nella sua presenza e che ci porterà specialmente in questo periodo di Quaresima ci farà forse avvicinare alla Pasqua con un cuore messo nella maniera giusta Padre Mario deponendo tutto quello che possiamo deponendo le armi e anche come ci ricordava prima Don Norberto quanto mai più azzeccato e appropriato rispetto al momento anche storico che stiamo vivendo Padre Mario noi ti ringraziamo per essere venuto e ti ringraziamo per essere venuto in compagnia per averci portato la Sato della Madonnina che fa parte è un pezzo della tua vita che ci ha fatto piacere avere vuol dire che quando la pregherò mi ricorderò in particolare il TV2000 grazie Padre Mario 8.01 andiamo subito a vedere che tempo fa quest'oggi con il nostro meteo grazie a tutti Grazie a tutti.